E' stata accolta con freddezza da FDI e Forza Italia la proposta di Matteo Salvini di dare vita nel Parlamento e a un gruppo unico dei partiti di centrodestra. Pesano, hanno fatto notare esponenti dell'uno e dell'altro partito, ragioni tecniche, in parte, anche ragioni politiche, specifiche della connotazione comunitaria. Restano ferme, comunque, sia l'unità del centrodestra a livello nazionale sia la possibilità di collaborazioni a livello europeo, pur nell'appartenenza a gruppi parlamentari diversi. Questo è il momento in cui dobbiamo lavorare per mettere insieme il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre, per essere determinanti e per diventare il primo gruppo all'interno del Parlamento europeo, ha detto Salvini, intervenendo in diretta su Facebook alla videoconferenza dell'incontro a Project for Another Europe, organizzato a Cascais in Portogallo dai partiti aderenti a ID, Identità e Democrazia. Salvini, dunque, ha proposto di costituire un gruppo unitario al Parlamento europeo formato dai partiti che si ritrovano in ID, ECR e PPE. I numeri ci dicono ha aggiunto che, se volessimo e se ciascuno rinunciasse a una bandierina nel nome della crescita comune, già da domani potremmo essere il secondo eurogruppo a Bruxelles.